guardate, lassù, il re della montagna Rombolos, per Rombra, se combattiamo insieme la vittoria sarà nostra guarda lassù, qualcuno si sta facendo strada in cima alla montagna amazzone pronta, sangue per la mia spana se ne occupo io attaccati se ne occupa Forgrim arrivando da Morolish, aspetto for solo di... è tutto vero? sì, siamo ancora... in nome dei tuoi antenati, è Angrosh a inviare Dio Spermina Draghi il re è stato ferito dai Dragoniani non è sopravvissuto quasi nessuno tranne gli ultimi fedeli seguaci di Yaraobosh non è sopravvissuto tu e mio figlio, Arum siete sempre presenti quando l'odore della battaglia e del sangue impregna l'aria il vostro coraggio è impressionante siamo stati assaliti da creature dragoniane e molti bambini di Angrosh sono tornati dai nord spero che riusciremo a farci strada attraverso la grotta del martello col vostro aiuto sono stati assaliti sulle Grazie a tutti. Grazie a tutti. Amazone è pronta. Se ne occupo io. Per la barba di Angrosh! Distruggeteli! Per la barba di Angrosh! 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 E' ora di combattere! Sai cosa fare! Per la barba di Angrosh! Per la barba di Angrosh! presto ci riscalderemo vicino al fuoco a Malmertzrom resistete cos'è stato? ehi tu vieni ad aiutarci a combattere queste creature a me ne hao cupolo come una aiutare ehi a me ehi 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 Per Rondra! Ottima scelta! Per Rondra! Te ne occupo io! Colpite! Per Rondra! Colpite! Sì! Per Rondra! Puoi contare sulla gratitudine di Anglos? La grotta del martello di Malmarzrom sarebbe stata persa senza il tuo aiuto. Per Rondra! Sono Angraxa, figlia della pietra e sacerdotessa di Malmarzrom. Hai salvato il nostro luogo sacro da quelle bestie. Tuttavia, temo che questo sia stato solo un assaggio degli odori che troverai sulla città. Abbast ningun Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. È un piacere trovarti così in forma. Cosa posso fare per te? Saranno nostri. Me ne occupo io. Ecco io. Distruggeteli. Perroca, colpite. Vendichiamo Purcum. Sì. Sicuro? Run! Dile mi è vero, Ardo! Mi hai salvato la vita. Ti sono infinitamente grato. Come posso servire? Grazie. Non solo hai salvato il mio padre, ma anche l'intera città di Burlush. Gli Angrosh in Dinkudine sono enormemente in debito con te. Per la barba di Angrosh, sei ancora in vita. Quante tacche devo incidere nella roccia per contare quanti nemici hai eliminato? Gli AngrFr crazie. Grazie a tutti.